Vicenza, Genova Pegli, Fano e Roma sono le quattro principali realtà del calcio per amputati, da tempo ai vertici del settore, che si sono date appuntamento sul campo del Maristella a Cremona per le finali di Coppa Italia e Supercoppa. Tanto agonismo in campo, ma soprattutto tante storie personali che si sono intrecciate, come quella del cremonese Alessandro Cenicola di Castelverde. Io ho fatto un incidente stradale proprio sei anni fa, precisi, perché è il 17 novembre, e ho perso appunto il braccio destro e mi sono ritrovato a inseguire la mia passione, però in un altro ruolo, in un'altra posizione e in un altro calcio. Questo calcio che comunque ci ha dato la possibilità di poterci reinventare, riadattare e soprattutto credere nella nostra passione, nel nostro sogno. Di Lorenzo Bulloni, di Crema. Io ho perso la gamba in un incidente in moto, quattro anni fa, a 18 anni, e dopo due anni di ospedale ho iniziato a giocare con i ragazzi del Vicenza e ho trovato una nuova vita. Ho visto nei ragazzi una forza immensa che a loro volta me l'hanno trasmessa e sono riuscito a uscire da momenti bui anche grazie alla mia famiglia e ai miei amici. È quella di Francesco Messori che ha trasformato un sogno in realtà. Sono nato senza la gamba destra, però fin da piccolo avevo questa grande passione per il calcio che ho iniziato a coltivare fin dall'età dei sette anni. Avevo questo grande sogno. Grazie a Facebook ho aperto un gruppo, l'ho chiamato Calcio Amputati Italia e nel giro di un anno siamo riusciti a raccogliere inizialmente una decina di adesioni che hanno permesso la creazione della Nazionale Italiana di Calcio Amputati. Un appuntamento importante per Cremona e per il mondo del calcio per amputati. Abbiamo riportato a Cremona dopo dieci anni il calcio amputati, laddove è nato. Grazie a un torneo di calcio integrato dove ha potuto giocare per la prima volta Francesco Messori grazie a un permesso del CSI. Lo sport per persone con disabilità in questi dieci anni, il presidente Pancalli dice da Londra 2012, si è sviluppato molto eccetera, però c'è ancora da fare molto in termini di cultura proprio. È un'iniziativa lodevole e meritevole. Questi ragazzi sono eccezionali, hanno una forza e una potenza ineguagliabile. Noi! Noi! Grazie.